Oggi vi faccio vedere come preparare miso d'ama. Zuppa di miso istantanea fai da te. Gli ingredienti sono miso, alghe wagame essiccate, brodo granulare di tonnetti essiccati e cipollotti. Questa è la ricetta per 10 porzioni di zuppa di miso. Mettiamo in ammollo 10 grammi di alghe wagame essiccate. Facciamo tritato di 30 grammi di cipollotti. Avevo due tipi di miso nel frigo quindi faccio un misto di totale 150 grammi. Anche questo miso misuro 75 grammi così faccio diventare il totale 150. Mettiamo i cipollotti tritati. Mettiamo un po' più di un cucchiaino di brodo granulare di tonnetti essiccati. Quando ci sono idratate le alghe wagame mettiamo sul fuoco. Sto usando le alghe wagame essiccate della marca coreana e sono buonissime e carnose quindi bisogna le salve per farle diventare la morbidezza giusta. Le laviamo subito con l'acqua corrente per stoppare la cottura e poter strizzarle con le mani. Cerchiamo di strizzarle molto bene. A presto le alghe wagame, se vedete che è abbastanza grande, tagliamo prima due centimetri di larghezza e poi tagliamo ai pezzettini. Le mettiamo nella ciotola dove ci sono già miso e cipollotti. Utilizzando la spatola o un cucchiaio mescoliamo bene. Mettiamo un piatto sulla bilancia e tagliamo. Mettiamo questa cosa che abbiamo appena mescolato bene e cerchiamo di capire quanto grammi totale sono arrivati. Ci sono 304 grammi. Facciamo 304 diviso 10. Non è che non sono capace senza calcolatrici ma per farvi vedere sto usando. Così capiamo una pallina di miso dama. Deve essere circa 30 grammi. prepariamo la bilancia digitale, la pellicola, la forbice e un scotch. Mettiamo un pezzo di pellicola sulla bilancia e sopra la pellicola andiamo a mettere 30 grammi di questo miso farcito, possiamo chiamare così. Chiudiamo la pellicola creando una pallina di miso. Attorcigliamo la chiusura e lo fermiamo con lo scotch. Parte sopra che sta facendo un ciuffolucco tagliamo un po' così un po' più bellina. La mettiamo nella contenitore così prepariamo anche il resto. Adesso sono pronte per essere congelate nel freezer almeno per una notte prima di fare la zuppa di miso istantanea. Sono passati un po' di giorni prima di poter fare la ripresa finale e nel frattempo ho consumato due miso per fare la zuppa di miso. Per questo che non ci sono dieci pezzi che dovevano esserci. Per fare una porzione della zuppa di miso mettiamo una miso dama nella tazza e mettiamo 160 millilitri d'acqua bollente prendendo bene la miso dama. La sciogliamo bene mescolandola con i bastoncini. Ecco la nostra zuppa di miso istantanea fai da te è pronta. E' un'ottima soluzione quando vogliamo mangiare la zuppa di miso ma non abbiamo il tempo né voglia di farla. Per semplificare ancora di più invece di alghe wakame potete mettere alghe nori zumbricciolate. Ma in quel caso mettete 120 grammi di miso anziché 150. Questo video termina qui se vi ha incuriosito questa ricetta mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando l'icona della campanella riceverete l'avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!